Chiusura positiva per le borse europee. A Milano l'indice FITZMIB chiude guadagnando l'1,26%, seconda solo a Francoforte. Si attenuano anche le tensioni che di riflesso avevano investito anche i titoli di Stato dell'Italia. I rendimenti dei BTP decennali calano lievemente al 5,10% e il loro spread sul Bund cala a 360 punti base dai 362 registrati ieri in chiusura. Giudicata positiva, l'asta dei BTP a tre anni con rendimenti sì in rialzo ma a fronte di una domanda molto robusta. Il numero dei sussidi settimanali alla disoccupazione degli Stati Uniti è diminuito la scorsa settimana, un altro segnale positivo dopo il recente calo del tasso di disoccupazione.